Orfeo, direttore generale, se dico sulle mani, fallo sulle mani, occhio, occhio che il 4 marzo arriva. Sai come siete voi vertici, il 4 marzo se vince, come si chiama, il toyboy di Orietta Berti, si va a casa poi eh. Io non sono qua per fare i monologi, dai ancora.